... ... Mio fratello sarà contento di rivederti all'inferno. L'altra settimana è passato in città uno del Montana. Bibbia. Bibbia, proprio lui. Ecco, mi ha chiesto di questo. Guarda, è un certo smart. Guarda, è un certo smart. Sto cercando un uomo. Si chiama Santana. Siete tutti assassini. Ehi, Bibbia. Guarda, la tua cena è finita. Se volete, potete controllare. Siete tutti. Tieni, bagnati un po' la gola. Grazie a tutti.